Adolfo Ciao, sono Adolfo, co-founder di Knight. Abbiamo costruito le macchine leggere con l'algoritmo dell'intelligenza artificiale. Knight ha creato la prima tecnologia di patente italiana per l'automatica leggere, scegliere e analizzare l'evento di carri, indipendentemente del leggere e del alfabeto e del linguaggio. I nostri principi avvantaggi rispetto ai competitori sono che il nostro sistema necessita solo una piccola quantità per il training e non necessita un lexicon per riconoscere le parole. Basicamente, ci sono due applicazioni principali della nostra tecnologia in un scenario reale per il settore del banking. Il primo è l'automatizzazione del processamento di data in office. In effetti, il nostro sistema è potuto ridurre più del 60% del tempo necessario per inserire manualmente i dati del cliente in un sistema di informazione. Il secondo, più specifico, è l'automatica sia in linea e in linea signatura verificazione per i risultati di sicurezza. Per il Chebanca italiana FinTech Award abbiamo creato un prototipo di un sistema di signatura verificazione che potete vedere nella prossima demo. Grazie! 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 Grazie!